Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la maglia, la prima maglia del Bocah Junior per la stagione 21 e 22 nella versione FUN, quella cioè dedicata ai tifosi. Come da tradizione la maglia è tutta blu con questa fascia gialla sia sul fronte che sul retro. Sulle spalle sono presenti le strisce adidas di colore giallo. La maglia è veramente ben fatta. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare. Le iniziali del club e lo stemma adidas sono termosaldati così come lo sponsor. Questo per una maglia in versione FUN è abbastanza inusuale perché di solito sono richiamati. sulle spalle sono presenti le tre strisce adidas e all'interno del colletto vi è sempre questa striscia gialla che richiama il colore con cui la maglia è rifinita. Sul retro vi è lo stemma del Bocah Junior. La maglia è veramente molto bella. Nella sua semplicità secondo me prende 4 stelle. Questo vogliamo per anche la storia che ha questo club sudamericano. Ma ditemi voi poi cosa ne pensate nei commenti. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità e le misure. Se il video vi è piaciuto vi predo di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia M della versione FUN. Quella cioè dedicata ai tifosi che è un po' più confortevole, meno attillata. e poi vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.